Sarà montata in questi giorni la tenda pre-triage presso l'ospedale civile di Agropoli, precisamente nel piazzale antistante Reparto Usca, unità speciale di continuità assistenziale. Attualmente è presente solo la tenda della Croce Rossa per effettuare i tamponi all'esterno del Reparto Usca. Presso la tenda pre-triage i cittadini che necessitano di ricovero vengono sottoposti prima di tutto alla misurazione della temperatura corporea e alla saturazione polmonare con il saturimetro. Di seguito gli infermieri fanno poi loro una breve intervista chiedendo residenza, contatti avuti nei giorni scorsi, eventuali contatti a rischio, sottoponendoli insomma a una serie di domande utili all'anamnesi, sulla cui base vengono fatti entrare all'interno del pronto soccorso. In seguito si procederà a stabilire se saranno ricoverati o meno presso la struttura ospedaliera. Un altro passo avanti pare dunque per il nosocommio agropolese. In queste ore inoltre si sta cercando di reperire anche i rianimatori da diversi presidi ospedalieri. L'auspicio è quello che l'ospedale agropolese possa offrire un servizio qualificato e indispensabile in questo momento così delicato dove la curva dei contagi in Regione Campania tende quotidianamente a salire.